Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari, ma questo è evidente perché sono sulla mia pagina. Di nuovo giovedì e quindi di nuovo parliamo di aborto. Eh sì, il giovedì è dedicato a questo tema qui, avverto tutti subito, così quelli che non fossero interessati, il giovedì mi evitano. Ed eccoci qua, parliamo anche di Charlie, pensavate che ce ne fossimo dimenticati? Bene, non ce ne siamo dimenticati e parliamo sempre di lui e abbiamo deciso di fare Charlie santo protettore dei bambini senza valore, i bambini che non hanno alcun valore e che quindi vengono buttati via. Charlie era molto malato, questo vorrei sottolinearlo perché porca miseria, era vero, non ci inventiamo che non lo fosse. Aveva una gravissima patologia, buongiorno Michela, aveva una, ciao Anna, ciao Federico, adesso devo piantarla o non dico più niente, ciao a tutti, aveva una gravissima patologia muscolare che lo rinchiudeva in un corpo e poi forse probabilmente non si sa, questo non lo sapevo mai, c'erano stati dei danni cerebrali importanti dovuti a una serie di crisi epilettiche che lui aveva avuto e di cui gli altri non si erano accorti perché la crisi epilettica la si vede bene dalle contrazioni muscolari, dove i muscoli non funzionano, queste contrazioni mancano e quindi c'era stato anche quest'ulteriore problema. Charlie era molto malato, eppure tutti quanti ci siamo battuti per lui. Sono stati abortiti al quinto mese dopo l'ecografia quando ormai il feto è grande, non c'è una così grossa differenza con un bambino, tanto più che nascono bambini vitali di sei mesi, di sette, per motivi irrelevanti, oppure direttamente fasulli. Qualc'anno fa è stato abortito un feto quindi di cinque mesi e mezzo per l'accusa fatta dall'ecografista di avere un'atresia dell'esofago, non è una bella cosa ma c'è un intervento chirurgico che la mette a posto. Per inciso dopo l'aborto si è scoperto che è ragazzi che ci volete fare, l'ecografista si era sbagliato, non vi è mai capitato di sentire gli esami medici sbagliati e in realtà il bimbo era sano, peccato che ormai fosse stato buttato fuori, doveva essere un bambino dannatamente robusto perché è riuscito a sopravvivere, feto di cinque mesi, respirando da solo, senza nessuna animazione, per ben undici ore. Questi bambini vengono lasciati morire perché se si li anima, oh per carità poi c'hanno i danni cerebrali e allora ci li siamo, uno col danno cerebrale vale la pena e lascia perdere, vengono lasciati a morire da soli in delle scatole di metallo. Muoiono di freddo e disidratazione. Il bambino, il feto, una volta che fuori dall'utero di mamma, scusate, mamma, della proprietà dell'utero, è un bambino, porca miseria. Un bambino sente l'amore, sente la mancanza d'amore. Un bambino sa che dall'altra parte del cordone umbilicale c'è qualcuno che deve stringerlo. Il bambino non solo sente il freddo, non solo sente il dolore terribile alla testa con cui si muore per disidratazione. La morte per disidratazione è dolorosissima perché nel momento in cui si altera la pressione dei ventricoli intracerebrali il dolore alla testa è come se qualcuno te la prendesse a picconate o è come morire con la testa schiacciata da una pressa. E il bambino sente anche la mancanza d'amore. Quel bambino è morto sapendo che non voleva nulla. Quella donna avrebbe dovuto trovarsi di fronte a un medico, un vero medico. E un vero medico dice signora non dica puttanate, questo è il suo bambino. Adesso lo facciamo nascere, poi vedrà un intervento chirurgico, adesso combattiamo per lui. L'avolto fatto a queste donne è una lesione volontaria sul consenziente. Una donna a cui noi permettiamo di uccidere un bambino, il suo bambino ancora nel suo ventre. Un bambino tra l'altro di cinque mesi in grado di sentire la sua voce, in grado di sentire il dolore, il dolore lo sento già due, eccetera. È una lesione gravissima sul consenziente. Perché quando questa donna si è svegliata, poi, e si è trovata con l'utero vuoto e si è resa conto dell'idiozia che ha fatto, cosa pensate che sia stata la sua vita? Un altro bambino, anche questo sopravvissuto per dieci ore, a Rosignano, è stato abortito per un labbro leporino. Allora, abbiate pazienza. Siamo stati tutti qui, noi siamo l'armata di Ciali. Ciali, onestamente, aveva una malattia muscolare gravissima. Questo bambino aveva un labbro leporino. L'abbiamo buttato nella spazzatura. Anche questo è robustissimo. Ha resistito dieci ore da sole in una scatola di metallo. Ha ammortato, ha anche bloccato una sala operatoria, perché c'era lui in una scatola di metallo, si può dare proprio niente. Una scocciatura, una vera scocciatura. E la mamma ha visto qua che a un certo punto si è trovato con l'utero vuoto, si sa raso conto della terrificante puttanata fatta. Anche lei doveva trovarsi di fronte a un medico serio. Uno che dicesse, signora, per carità di Dio, la pianti di ediozia. Adesso questa donna che fa? Ha un altro figlio sano, perché fallato non lo vuole nessuno. Dato che sono prodotti in serie, lo voglio buono, non lo voglio fallato. E chiedo scusa, e se poi il bambino buono cade dal motorino, si spacca la faccia, non so, si distrugge la faccia, lo stione, tocchiamo ferro, può capitare. Che facciamo? Lo ammazziamo? Lo buttiamo via? Allora, vogliamo parlare della famosa legge sull'aborto? Questa legge va attaccata per due motivi. Primo, sul consenso informato non è scritta la frase a lei potrebbe rimpiangelo, lei potrebbe rimpiangelo dannatamente. Quindi, indovinate un po', udite e udite, stiamo organizzando una clax action, cioè una di quelle azioni giudiziarie che fanno molte persone insieme, di tutte le donne che adesso darebbero l'anima al diavolo per non aver abortito e che vogliono piantare una grana. Scusate un attimo, cari signori, ma se da me viene un tizio e mi dice scusi, sa dottoressa, nella mia mano sinistra c'è il diavolo, me la può amputare e io gliela amputo, è lesione dolosa sul consenziente. Noi non dobbiamo fare quello che i nostri pazienti vogliono, noi dobbiamo fare il bene dei nostri pazienti. Seconda cosa, la volta è una cosa privata, la volta è una cosa privata, te lo fai con i soldi tuoi. Io non posso essere costretta a finanziare con le mie tasse che io devo pagare perché altrimenti mi vengono a casa gli uomini della finanza, che sono uomini armati, che tu faccia questo scempio. Non voglio pagare il tuo bambino che finisce smembrato intero nel bidone della spazzatura, non voglio pagare di essere la causa della tua sindrome post-aborto. Volete abortire? È un affare privato, ve lo fate con i soldi vostri, non mi pare così delirante. Hai deciso l'utero tuo? Va bene, ti prendi 4.000 euro e ti paghi l'aborto, non hai 4.000 euro? Tranquilla, c'è la banca, gli restituisci 500 euro al mese, per due anni non vai in vacanza, sono cavoli tuoi. Io non te lo voglio finanziare. Io devo avere il diritto di non finanziare una roba che considero uno scempio. Un'ultima cosa, i medici che fanno aborto lo sanno che c'è qualcosa che non quadra. E quindi per ovviare il senso di essere uno che ha fatto qualcosa che non quadra, non proprio del tutto, tendono a incentivare l'aborto. Qualsiasi problema dica la mamma, io ho già tre bambini, ma sono molto stanca, signora si c'è sempre l'aborto. Oh, tu lo proponi per primo, ma sei impazzito? È evidente che sta influenzando una persona, molte donne, oddio, l'ha detto il medico. Addirittura un mio carissimo amico si è sentito proporre l'aborto per ben tre volte da tre fotografisti diversi perché il bambino aveva un banalissimo piedino torto. Adesso quel bambino è vivo, vegeto di tale, carino, simpatico, intelligente e sta facendo le cure ortopediche per il suo piedino. Non escludiamo che da grande non è impossibile che zoppichi leggermente. Non stiamo parlando del bambino Charlie, gravissimo, paralizzato in un letto. Stiamo parlando di uno che forse zoppicherà leggermente. E a questo è stato proposto un aborto. Quindi, signori, adesso fondiamo l'armata Charlie, che è l'armata dei bambini senza valore. Ci battiamo per tutti i bambini senza valore. Io sono Silvana De Mari, comandante, mi sono autonominata ma accetto altre candidature. Dell'armata Chesterton per la difesa dell'ovvio. Quando un popolo distrugge i propri bambini prima ancora che nascano, quel popolo si sta candidando alla propria autodistruzione. Arrivederci a tutti, buona giornata e buon lavoro.